Un mese di brillantezza musicale, mentre Chieti Classica torna ancora una volta per celebrare la sua settima edizione. Così stamani in conferenza stampa e in comune, dal 6 giugno al 15 luglio, questa ultima iterazione di uno dei principali eventi di musica classica in Europa è stato detto mira a costruire sulla sua ricca eredità con un programma senza pari di corsi e masterclass in un meno di 10 strumenti diversi, tutti guidati da un illustre gruppo di professori e pedagoghe riuniti da tutto il mondo, il maestro Giuliano Mazzoccante, direttore artistico della manifestazione. Abbiamo stretto rapporto di collaborazione con enti importanti, abbiamo il festival che va a riempire le sale dei musei della nostra città, coinvolgiamo, siamo coinvolti insieme al Comitato Nazionale Gian Battista Vico, ma quest'anno anche al Liceo Gonzaga, il Teatro Marucino, la città tutta, il Comune di Chieti quest'anno ci ha coinvolto nel cercare di animare la città in ogni angolo, soprattutto in quelli più significativi dal punto di vista culturale e architettonico. In cosa consistono questi appuntamenti? La città si riempirà di maestri, innanzitutto di allievi che studieranno a Chieti, chi per 5 giorni, chi per una settimana, chi per 10 giorni, con maestri internazionali, noi avremo qui ospiti come docenti, il primo fagotto De Wiener, il primo violoncello dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il già primo oboe del Teatro alla Scala e del Maggio Musicale Fiorentino, il maestro Pavel Berman che torna a Chieti per la settima volta consecutiva e che al momento è uno dei docenti più blasonati, ma naturalmente ogni sera tanti concerti, concerti anche di genere diverso e di strumenti diversi, con una novità quest'anno, una novità per cui Chieti Classica accoglie anche la musica antica. Anche quest'estate, all'interno dell'estate teatina, ci sarà la rassegna di carattere e di valenza internazionale, qual è Chieti Classica, grazie a questa partnership tra l'amministrazione comunale e l'associazione Art Ensemble dell'ostimatissimo maestro Giuliano Mazzoccante, direttore artistico del Teatro Marucino e quindi ci saranno davvero dei musicisti importanti di carattere internazionale che verranno a Chieti per ravvivare il nostro centro storico in ogni angolo, in ogni piazza, in ogni palazzo monumentale.